Poracci ci eravamo lasciati con una performance spettacolare da parte di Wario, una roba proprio di classe Boss ha riconosciuto per primo Brawl, mentre Sephirosu lancia la wave giusta, cioè sbagliata WarioWare Farted Together, ottimo Ma bene, andiamo avanti, di che gioco si tratta? Solo risposte sbagliate, sorprendetemi Foracci bentornati o benvenuti sul TG Poro, l'unico format di YouTube Italia dove si parla di videogiochi, ma solo di quegli usciti su Gamecube Non ci serve altro Quello di oggi sarà un episodio ricchissimo, perché ci sono così tante notizie da recuperare che molto probabilmente sarò costretto a spezzare questa puntata in due Più lavoro per me, ma meglio per voi Ma proprio per essere sicuri di non perdervi la seconda parte ed essere subito in prima linea nella conquista non violenta di internet.poro e la fondazione del Poroverso Iscrivetevi al canale e attivate la campanella delle porotifiche Tra l'altro la conquista non violenta ha superato un terzo del suo obiettivo principale Quindi insomma, tempo altri 18-20 anni e ce la faremo In descrizione comunque trovate tantissimi links, tutti da cliccare Ho detto tutto, iniziamo! Partiamo come di consueto dall'angolo della poracciata Avete meno di un giorno per riscattare gratuitamente Dining Light Enhanced Edition e Shapets Sull'Epic Game Store prima che vengono sostituiti alle 17 di domani da Mordau e dall'Early Access di Second Extinction Per me è l'occasione perfetta per recuperare Dining Light, uno dei miei vuoti videoludici che avrei sempre voluto colmare Gli altri tre giochi non li conosco minimamente Magari qualcuno di voi tra i commenti sa darci qualche indicazione Sono stato assente meno di una settimana ed è successo un po' il finimondo Nintendo ha infatti annunciato l'arrivo di Pokémon Stadium su NSO E da oggi tutti gli abbonati a Nintendo Switch Online più pacchetto aggiuntivo potranno recuperare questa perla dell'era Nintendo 64 All'epoca vedere i Pokémon in 3D era qualcosa di sensazionale Un impatto che forse, dico forse, gli ultimi giochi Pokémon non sono stati proprio in grado di replicare Non trovate? Comunque è un vero peccato che non ci siano su NSO le prime generazioni di giochi Pokémon E manchi anche il supporto al transfer pack Senza le integrazioni con i titoli Game Boy, Stadium perde gran parte del suo fascino e anche utilità La settimana scorsa ci eravamo lasciati con l'annuncio di una campagna sconti di Nintendo che avrebbe coinvolto i titoli con Mario protagonista Ma insomma, non c'è nulla di veramente sensazionale Grazie a Deco Deals però vi posso indicare tre affari interessanti Lupiro a meno di 6€ ma fate attenzione perché ve lo ritrovate anche sul Game Pass Dragon Ball Z Kakarot a un ottimo prezzo E anche un corposo sconto per Persona 4 Golden e 3 Portable a 16€ l'uno Niente male E poi ve ne ho già parlato nello shorts di ieri Ma per rifarci un po' delle poracciate in ambito mariesco Vi ricordo che Illumination e La Grande N hanno messo su tutte le piattaforme di streaming La colonna sonora del film di Super Mario All'interno di questa soundtrack ci sono anche delle tracce che purtroppo sono state rimosse dalla pellicola in sala per fare spazio a canzoni su licenza Un vero crimine Oggi è anche il giorno in cui viene pubblicato l'aggiornamento gratuito di Ghostwire Tokyo intitolato Spider's Thread Un bel update contenutistico per uno dei titoli più ignorati dello scorso anno Visto che ormai il gioco è stato messo sia su Playstation Plus che su Game Pass Questa potrebbe essere l'occasione perfetta per recuperarlo Ma se penso a Tango Gameworks non posso non pensare a Shinji Mikami Quindi il salto su Resident Evil 4 è inevitabile Poracci il remake è qualcosa di pazzesco L'ho finito qualche giorno fa e ne sono rimasto veramente estasiato Passerei ore a dirvi il perché ci troviamo di fronte a un capolaporo Ma questo è un TG poro e non c'è spazio per le recensioni Però intanto visto che siamo nei pressi dell'angolo della poracciata Vi ricordo che è stato recentemente reso disponibile l'update gratuito I Mercenari che aggiunge l'iconica modalità arcade presente nell'originale E nel mentre il remake di Resi 4 ha sorpassato le 4 milioni di copie vendute Diventando così il secondo titolo della serie a raggiungere più velocemente questo traguardo Il campione rimane Resident Evil 6 Un mistero della fede Parliamo un attimo di recensioni invece Venerdì uscirà la Mega Man Battle Network Legacy Collection La raccolta che racchiude tutti i titoli della serie apparsi su Game by Advance Le prime recensioni promuovono appieno questa collection Che nonostante il prezzo pieno Mette a disposizione degli utenti centinaia e centinaia di ore di gameplay Questa sorta di rivisitazione di Pokémon in chiave Mega Man Dove i mostriciattoli vengono sostituiti dai chip Conserva intatto tutto il suo fascino originale C'è però un grandissimo problema Per ora la versione fisica è stata annunciata solo per il mercato nordamericano Perché Capcom? Perché? A proposito di collection passiamo da Capcom a Konami L'azienda giapponese negli ultimi anni si è distinta principalmente per tirare fuori delle collection di tutto rispetto E a quanto pare la Kawabanga Collection La raccolta contenente 13 titoli storici delle tartarughe ninja Ha riscosso un discreto successo Anzi un ottimo successo Oltre un milione di copie vendute E quindi siamo ufficialmente nella nuova golden age delle Teenage Mutant Ninja Turtles Dopo Shredder's Revenge e questa collection Le aspettative sono altissime per The Last Ronin L'action adventure in stile God of War Basato sull'omonima graphic novel E chissà chi lo svilupperà Ma mentre aspettiamo con pazienza Rivolgiamoci a qualcosa di molto più vicino nel tempo Infatti sembra un sogno ma no In realtà l'uscita di Advance Wars Reboot Camp è dietro l'angolo il 21 aprile E le anteprime confermano un po' quello che tutti quanti ci aspettavamo E che eravamo pronti ad accogliere già l'anno scorso Il lavoro svolto da WayForward è estremamente fedele e rispettoso dell'originale apparso su Gameplay Advance Mentre il comparto grafico è stato completamente modernizzato L'ossatura del gameplay rimane sostanzialmente invariata Nonostante qualche aggiunta alla quality of life Io sono curiosissimo di provarlo ma vi devo fare una confessione Mi era stato offerto di recensirlo ma purtroppo ho dovuto rifiutare Ho veramente troppo poco tempo a disposizione E un titolo come Advance Wars rischia di impegnare per decine e decine di ore E io tutto questo tempo purtroppo non ce l'ho Voi lo prenderete al lancio? E per chiudere questa prima parte è giusto anche citare un altro avvenimento epocale avvenuto in casa EA Sappiamo già da tempo che la rottura tra Electronic Arts e FIFA è ormai definitiva E la popolare serie del gioco del calcio videoludico Da quest'anno perderai i diritti ufficiali comportando anche un significativo cambio di nome EA Sports FC prenderà il posto di FIFA E ora abbiamo anche il primo logo ufficiale Incentrato sul triangolo Una figura geometrica che da sempre ha accompagnato la storia della serie Maggiori dettagli sul gioco arriveranno a luglio intanto però ditemi Che ne pensate? Secondo voi EA riuscirà a vendere lo stesso tantissimo anche senza le licenze FIFA? Ma passiamo a quelle che magari non sono proprio le notizie del giorno ma sono comunque quelle più importanti Chi lo decide? Lo decido io Fate molta attenzione perché il ritorno di Metroid Prime potrebbe in realtà essere solo l'inizio del risorgimento game cubico Perché secondo un recente rumor potrebbe palisarsi dal nulla il ritorno del miglior Paper Mario di sempre E se avete pensato a Super Paper Mario siete delle brutte brutte persone Perché è ovvio che il migliore di tutti è il portale millenario Un gioco che ha rappresentato il pinnacolo qualitativo della serie e soprattutto l'ultimo vero JRPG Visto che negli episodi seguenti le componenti da gioco di ruolo sono andate via via sparendo Ora, secondo un utente su Famibords Il ricercatissimo gioco Gamecube starebbe per essere riproposto su Switch Per Pikmin's Netskov, grandissimo Nick La remaster del portale millenario, un progetto portato avanti internamente da Intelligent System Sarebbe prossima all'uscita e a confermarlo sarebbero ben tre fonti differenti La data è lasciata intenzionalmente sul vago perché una delle tre fonti non sarebbe d'accordo con quanto riportato dalle altre due Quindi l'autore del post preferisce non sbilanciarsi Non c'è molto altro da aggiungere al post Ma se questo presunto leak ha iniziato a far parlare molto di sé È perché ci sono parecchi elementi che giocano a favore di un tale scenario Anzi, sce Mario Innanzitutto, abbiamo un Paper Mario ogni circa 4 anni E sebbene con un po' di anticipo La remaster potrebbe colmare il gap con Origami King E allo stesso tempo potrebbe rappresentare una sorta di antipasto In attesa che nuovi titoli e produzioni più corpose vengano annunciate per un nuovo hardware Allo stesso tempo, considerando che Origami King fu svelato pochi mesi prima della sua uscita Una pubblicazione di questa remaster per settembre-ottobre potrebbe essere perfetta per colmare l'assenza di un titolo di Mario nel 2023 E sfruttare l'entusiasmo generato dal film appena uscito E per chiudere, c'è un altro fattore da non sottovalutare Dopo Metroid Prime, il ritorno di Batten Kytos e i rumor sempre più pressanti su F-Zero GX C'è chiaramente l'intenzione di sfruttare da libreria Gamecube in questo periodo storico Immagino che una remaster di Paper Mario sia molto meno impegnativa da fare rispetto a Metroid Prime E quindi non c'è neanche bisogno di sorprendere a tutti i costi gli utenti con un lavorone come quello fatto da Retro Studios Quindi io ci voglio credere, un prezzo budget e un'uscita entro sei mesi, che ve ne pare? Come al solito, volate basso con le aspettative, però una prospettiva del genere non sarebbe niente male, non trovate? E per chiudere, un doppio annuncio che renderà la giornata di domani, 13 aprile, poraccia al 100% Abbiamo infatti un doppio appuntamento che seguiremo, non c'è neanche bisogno di dirlo, qui in live Ne abbiamo già parlato nello Shorts di oggi, ma Nintendo ha annunciato il tassello finale per quanto riguarda la campagna di marketing di Gears of the Kingdom Domani alle 16 verrà trasmesso il trailer finale del nuovo Zelda, un filmato che durerà 3 minuti Noi ce lo godremo dal vivo, insieme, appena sarà pubblicato, con una live qui su YouTube che inizierà alle 15.30 Difficile dire quale sarà il contenuto della presentazione, ma molto probabilmente si tratterà di uno story trailer Che farà da contraltare al filmato di gameplay che abbiamo avuto qualche settimana fa C'è chi spera in un trailer che sappia lasciare il segno esattamente come fece quello di Breath of the Wild ormai parecchi anni fa Live è a mille e ormai, non so se ve ne rendete conto, ma manca solo un mese all'uscita di Gears of the Kingdom Non aggiungo altro Ma le live non finiscono qui perché alle 23 sarà il turno invece di un nuovo State of Play dedicato interamente a Final Fantasy XVI In circa 20 minuti di presentazione avremo nuovi dettagli sull'ambientazione di gioco, sui suoi personaggi e anche sul combat system Qui secondo me siamo all'esatto opposto di Zelda Se per Gears of the Kingdom le informazioni sono state rilasciate col contagocce, mi sembra di aver visto anche troppo di Final Fantasy XVI L'uscita è prevista per il 22 giugno e mi sembra un po' frettoloso un evento del genere Prendendo in considerazione sia le recenti preview ma anche il gameplay esteso del PAX East Però si tratta sempre di uno dei titoli più attesi dell'anno e di nuovo noi ci vedremo una mezz'ora prima alle 22.30 per seguire insieme l'evento Chissà magari Square e Sony potrebbero decidere di rilasciare una demo in chiusura dello State of Play Che dite? È plausibile uno Shadow Drop del genere? E questo però c'era tutto per oggi, vi ringrazio per essere arrivati fino in fondo e vi aspetto qua sotto nei commenti per continuare a discutere insieme delle notizie del giorno Noi ci vediamo domani con una doppia live, mi raccomando vi voglio carichissimi ma soprattutto riposati Quindi fate bei sogni dormendo Sonic tranquilli, riposatevi nerdando duro e nerdate duro nerdando duro È chiaro no? Noi ci vediamo domani, io sono il Poro Paper, Michele e Mario, ciao! Ehi ehi ehi, fermo, se questo tipo di video ti piace prendi in considerazione l'idea di supportarmi sul Poreon, il Patreon dei Poracci Con un piccolo contributo mensile mi può aiutare enormemente a portare avanti i contenuti qua sul canale E in cambio ricevi anche delle ricompense di tutto rispetto, come retroscena, anteprime e anche live esclusive dove andremo a caccia di retro game Ti lascio il link in descrizione e ricordati che Poracci si diventa! Allora non so se ho messo a fuoco ma riregistro tutto Gesù